To be or not to be, 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 or not to be, or not to be, or not to be, or not, or not, or not, or not, or not, or not. Bastano 90 minuti di dialoghi e battute, nello stile inconfondibile di quella che 30 anni fa era la coppia di artisti più in auge sulle scene del cabaret regionale, per scansonare il più grande drammaturgo di tutti i tempi. Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi tornano insieme in teatro con un nuovo lavoro, Tutto il mondo è palcoscenico, in anteprima nazionale al Teatro Verdi di Brindisi. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Ho fatto un buon esempio perché la voce esce da dietro. Non è che mi escono alla vana, capito? Una pièce ispirata alla commedia di William Shakespeare, Come vi piace, ovviamente riveduta e rivisitata in una contemporanea chiave comica facile e diretta, senza però rinunciare ad una morale profonda, ovvero analizzare usi e costumi del vivere quotidiano attraverso equivoci, pensieri laterali, dialoghi serrati e fraseggi esilaranti. Tutta materia che per i due fuoriclasse della risata è manna caduta dal cielo, con una drammaturgia liscia e piana adatta a rendere il bardo materia intellettualmente commestibile a tutti, dove il genere umano è il vero protagonista, abile nel rompere la quarta parete di scena con il repertorio completo delle sue qualità e debolezze tra vita reale e dipendenza da social network. Quanti gli altri stiamo ancora qua ad aspettare la gratificazione? Sì, aspetta sempre, no, grazie, grazie, ma adesso non sono forcetti che ho espresso ancora.